Namaste, oggi ti racconto la storia dell'asinello. L'asinello preferito di un signore cadde in una buca e non riusciva più ad uscire. Il suo padrone ci provò in tutti i modi ma non riusciva a tirarlo fuori finché giunse alla conclusione che bisognava seppellirlo vivo. Così cominciò a buttare appunto del terreno, del materiale per seppellirlo ma l'asinello vedendosi arrivare il materiale addosso si scrollò via e ci salì sopra. Più un materiale arrivava più l'asinello si scrollava e risaliva sopra. Materiale arrivava l'asinello si scrollava e saliva al di sopra fino a che salendo 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 riuscì ad uscire e continuare a poscolare per i verdi prati. Morale della favola che non importa in che situazione ti trovi, non importa che cosa ti sembra in quel momento ma una soluzione c'è sempre, bisogna cambiare prospettiva. Per cui non importa quanto materiale ti arriva addosso, semplicemente scrollatelo e sali sopra. Questo non è immediato, non è facilissimo, occorre lavoro. Sicuramente questa asinello ha dovuto come dire lavorare sodo per scrollarsi e risalire, scrollarsi e risalire ma alla fine ce l'ha fatta. Quindi ricorda non importa in che situazione sei. Quello che è importante è che ti scrolli di dosso le cose e risali su.